Loredana Liciso al Grand Hotel Chiambretti, il famoso programma televisivo che va in onda su una rete Mediaset condotto dal grande Piero Chiambretti, il personaggio televisivo italiano. Ebbene, poco tempo fa la bella e simpatica Loredana Liciso è stata, pensate, ospite di questo programma televisivo e, come per così dire caratteristica, quella sua presenza all'interno di questo programma si è fatta molto vedere perché, come caratteristica, ripeto, si è fatta vedere, nuotare, perché in qualche maniera si è divertita a mostrare le belle gambe facendole vedere in modo piuttosto palese, alzando in qualche circostanza la miniconna, facendole vedere le graziosi gambe in un modo abbastanza palese, in un modo abbastanza concitato, muovendo più volte i capelli con le sue piacevoli e belle mani. Insomma, una Loredana Liciso che avrebbe anche, tra virgolette, fatto l'occhioino, tra virgolette, o meglio, avrebbe fatto sguardi amicanti alla telecamera che la riprendeva. La bella Loredana Liciso si è dimostrata all'altezza della situazione in quella puntata di Grand Hotel Chiambretti Night, e si è divertita a commentare l'ultima puntata di quella piacevole, appunto, serata di L'Isola dei Famosi che vi ricordo va in onda, non più sulla rete di Rai, ma sulla rete della Megaset. E in quella circostanza la bella Loredana Liciso, appunto, avrebbe fatto diversi commenti su questa nuova edizione di L'Isola dei Famosi, ma ripeto che la caratteristica che è basata più agli occhi della sua presenza al Grand Hotel Chiambretti è stato il fatto che la bella Loredana ha fatto vedere le sue grandi gambe, le sue belle gambe lunghe e sinuose, le ha agitate, le ha fatte vedere in modo abbastanza palese, cercava di farle guardare agli occhi di qualsiasi uomo che poteva apprezzarle meglio perché probabilmente anche a lei piacciono molto e non le disturba, appunto, farle vedere, farle apprezzare da chi ama le sue straordinarie lunghe e sexy gambe, fa bene, perché se lo può permettere. Grazie cari utenti di Youtube, insomma, una Loredana Liciso che ebbe un successo lamoroso al Grand Hotel Chiambretti, il programma di Piero Chiambretti, il famoso personaggio televisivo d'Italia. Iscrivetevi, commentate, uno secondo.